Questa mattina in studio ospitiamo Mariella Pappalepore, presidente dell'azienda Planetech. Buongiorno e benvenuta. Un'azienda attiva a Bari da quasi 30 anni che elabora dati dei satelliti, ma che recentemente è diventata una benefit corporation. Allora, innanzitutto spieghiamo che cosa significa come un'azienda che elabora dati diventa una benefit corporation, che tipo di relazione c'è tra queste due entità? Certo. L'azienda benefit è una forma societaria nata in Italia, che è stata istituita in Italia nel 2016, quindi molto recente. Qual è il senso? È un po' un cambio di paradigma nell'impresa. Chiariamo che non siamo diventati una onlus, siamo sempre un'azienda che fa profitto, così come tutte le aziende, e semplicemente si aggiunge all'obiettivo di business e di profitto dell'azienda un obiettivo sociale, di impatto sociale. Questo perché nasce dall'idea che tutte le aziende, indipendentemente dal settore in cui operano, hanno anche un impatto sulla società, un impatto sociale. Per cui si devono prendere la responsabilità di questo impatto e di aggiungere alle loro azioni di business anche delle azioni rivolte alla società, al territorio. Possiamo esemplificare quali sono queste azioni, se volessimo fare un esempio pratico, queste azioni nella società? Beh, diciamo poi ogni azienda che si trasforma in azienda benefit decide un po' il suo percorso. Noi abbiamo deciso di puntare sia sul sostegno del territorio, quindi sostegno per fare azioni per migliorare lo sviluppo culturale del territorio, ma anche azioni verso i giovani con l'idea di diffondere principalmente quella che è la sostenibilità ambientale e comunque come fare impresa in maniera sostenibile. Questi sono i nostri focus, ma la cosa importante è che cosa significa trasformarsi in azienda benefit? Significa scrivere nel proprio statuto questi obiettivi, quindi rimangono scolpiti nella pietra come obiettivi che l'azienda si dà anche a lungo termine. Non è solo una scelta, ma è proprio una missione dell'azienda. Esatto, è una missione dell'azienda che in realtà alla fine esplicita in qualche modo quello che sono, ripeto, quello che è l'impatto che le aziende hanno sulla società. Grazie, grazie a Mariella Papalepore e buon lavoro.